Alla ricerca di Mr.Incredible Oh, finalmente di nuovo con Elastigirl Premi e tieni premuto il tasto R1 per slanciarti Se solo andasse magari lo farei Ecco fatto Ah, la scena... ok Beh, oddio Non è che è proprio... Non è che si è proprio arrampicata così lei, eh Che devo fare ora, scusami? Ah, ok, potevo muovere la telecamera così tanto per... Certo che Elastigirl è proprio conveniente Nel senso, può incastrarsi dove cavolo vuole lei Ovviamente Ce n'è una Perché se ne sono altri qua dentro, oltre a me Voglio dire Allora, qua è chiuso Proseguiamo di... Uh, dimmi che c'è la scena in cui si incastra in mezzo alle porte, ti prego Vuoi cattivarci o nascondete a una fragile signora? Nascondete? In realtà stanno venendo... Proprio a menarti in realtà Ma io... Ok, sto dicendo, posso entrare qua Ok, tu sei ancora vivo Beccati questo Ancora vivo sei? No, ok Ahia, ecco fatto Scappa, scappa Come faccio a ficcarmi in certe situazioni? È colpa di tuo marito, non ti preoccupare Come ho fatto a passare Senza neanche prendere un... Ah, ma... Io pensavo che erano torrette che sparavano dritto Ecco fatto Mi ha dato una spinta Ok L'attacco in avanti col triangolo è veramente utile Sia con lei sia con... Con mister incredibile Altra porta Io penso che il livello... Più difficile finora Fosse la scorsa puntata Penso che Ahia, che male Penso che la parte più difficile finora fosse La puntata scorsa Quindi Bene o male credo che Tutto quello... Eh, la madonna quanti sono usciti da quella porta Quindi tutto quello che faremo Da ora in poi forse Sarà un pelo più semplice Apri la porta Lo spero più che altro Anche se Alla vista dei livelli demo Ti fanno vedere che c'è una sequenza ancora con flash Uh C'è ancora una sequenza con flash Soprattutto una in cui Devi fare combinazione con Violette Dentro la pallina Dentro la sua... La sua bolla di energia Garantisco che Ecco fatto E quando mai... Ehi Perché non riesci a prenderlo? Che cavolo Ok, qua siamo pieni di... Ecco fatto Così ho la scusa per prendere quell'oggetto lì Grazie della cura E grazie di questo qua Ok, dove devo proseguire? Da questo lato? Mi sa di sì Ok Sì No Di qua da dove sono arrivato Quindi di qua E quando mai Ecco fatto Sto attacco con L1 è utilissimo Altro che la... Che mister incredibile che fa la protezione E poi si... Si lancia più in alto Pensavo sarebbero apparsi altri... Altri cannoni che mi sparavano Oh Facciamo volare quei ragazzacci Ok Iniziamo Iniziamo magari Ecco fatto Stavo per dire Iniziamo magari a stare un attimo fermi Però non ho capito se la telecamera mi ha preso Si sono disattivate da sole Dove sto andando? Eh, bella domanda Dove sono? Che sto facendo? Ecco qua E qui ce n'è una Becca di questo Ecco fatto L'attacco R1 di Elastigirl è fantastico È utilissimo Ha un raggio molto più ampio Veramente Molto più utile del marito D'altronde Le supereroine hanno sempre una marcia in più Cos'è che ha suonato? Ahia Ecco fatto Comunque Mi prendo questo Mi prendo questo E Disattiviamo Le lucine Cos'è? Cos'è quell'arma? Ok Ecco fatto Ecco qua Vaffanculo tu e lo scudo Che mi frega Io vado avanti Tu stai pure là Mi raccomando Rimani lì con lo scudo E ora aspettiamo che il braccio meccanico Ripassi da qui Ecco fatto Grazie Ma basta Ecco fatto Prendilo Ecco fatto Muori Perfetto Bravo Allora vediamo qui se c'è qualcosa Oggetti No Neanche uno Pensa se lo facessi Allora Braccio Credo che abbia Ecco Attivato La fermata Anche da quella parte Mi piego Ma non mi spezzo Eeeh E come ti pieghi tu Mia cara Bim Ecco fatto Ecco qua La cosa bella è che L'attacco Di R1 E' solo una spinta Gli da una spinta in avanti Scusami Dove hai nascosto tu Boh C'è ancora qualcuno Mi sembra di no Perfetto Ora saliamo di livello Andiamo dalle altre parti Chi l'avrebbe mai detto Perfetto Una nuova fermata E fuia Aia Morto? Sì Perfetto Che palle che dentro ste zone Non c'è mai nulla Aspetta 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 Ecco fatto No Risali sopra Risali sopra No Maledetti Ecco Beccatelo Ecco fatto Tanto tutti i tuoi colleghi Sono morti Quindi Stai un po' buono Vediamo Neanche sto giro C'è nulla Fantastico Eh Pensa se lo facessi Dov'è l'ultima Fermata O è quella O è questa qua Credo sia questa Sì Intanto Attiviamo anche il computer Ok Quella era l'ultima Fermata Però qui dentro Che cosa abbiamo Brillante È brillante Ok Un sacco di campi magnetici Abbiamo Ok Allora Calmi un attimo tutti Andiamo prima dall'altro lato Andiamo prima di là E vediamo che cosa c'è C'era giustamente Un segreto C'è ancora qualcuno? Ovviamente Ok Proseguiamo adesso Allora Cadere di sotto Non è un'opzione Ecco fatto Dobbiamo fare Tutto volante Ho sentito una porta Aprirsi Ah no è Ah Non è una porta È il Il coso lì Dei trenini Ma è una cavolata Sta parte Cioè la puntata scorsa È stata di una difficoltà Assurda Adesso è Schiaccia tre bottoni Così puoi andare avanti Elastiger comunque a livello di combattimento È veramente esperta È veramente molto brava in combattimento Qualcuno mi spara Qualcuno sta sparando dall'alto Vabbè Io intanto Proseguo Ecco fatto Garantisco che questo li stenderà Garantisco che questo li stenderà Venga di questo Morto? Ottimo Come faccio a ficcarmi Eh come faccio a ficcarmi In queste situazioni Ok Non vedo La telecamera Ok Allora Fermi tutti Fermi Sono caduto Allora Ritorniamo su Allora Non capisco uno da dove mi sparano E due chi mi spara Quindi facciamolo Ah Ho capito Allora Ho capito adesso Come si fa a girare in questa mappa Sono una rubacuori Ecco fatto Ah benissimo Si è disattiv... Si è... Si è attivato lo scudo Da questa parte Ehi Aia Ecco fatto Tutti morti Grazie Allora Ho capito Ho capito Ho capito che per passare Dobbiamo salire Sopra il gancino Più che altro Non riesco a capire Il giro che fa Cioè Non capisco Cosa ci servono I bottoni Qua Quelle guardie Potrebbero darmi problema Da questa parte Da questa parte Ecco fatto Morti tutti? Benissimo Non c'è niente di meglio Del tiramisù Eh non c'è niente di meglio Del tiramisù Di tutte le frasi che puoi dire Dirici Una sul tiramisù Ma Boh Vabbè Non... Ecco fatto E scovare cattivi è divertente È divertente Quando non ti sparano Non hanno scudi elettrici Quello sì allora E non faccio Allora Mi sa che Ho mancato un computer Dall'altra parte Quindi aspettiamo Un secondo che gira Ecco fatto Ok ci siamo E possiamo accedere Come... No 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 Oh no Nooo Devo rifare tutto Mi serve un bagno caldo Ti serve andare a fan Ok Dovrei esserci ora Sperando di non cadere Di nuovo di sotto Mi serve un bagno caldo Eh ti serve un bagno caldo Scendiamo qui E per l'amor di dio Sali sopra Se solo Sapessi cosa Devo fare Perché Non è che mi dice Vai in quella direzione O fai quella cosa Cos'è che devo fare? Cos'è che vuoi dare la mia vita? Ok C'erano Quattro computer E solo uno Era quello giusto E ti pareva Ok aspetta Ecco fatto Allora aspetta un attimo Dovrò probabilmente Aspettare Il passaggio di Uno di quelli No forse no Eh bella domanda A proposito Ok siamo all'ultimo punto di controllo Almeno per saperlo Qua Qua non posso entrare Che strano Qua invece Vabbè Non importa L'importante è sapere che sono nell'ultima zona Dai Almeno quello Quando ci sono dei bivi È sempre Un punto di domanda Se sta andando dalla parte giusta Oppure no Bip Ok dobbiamo andare anche dall'altra parte Calmo Aia Allora Uno Due Eh ulla Troppo vicino Ecco fatto Che palle Dai buono Ma stai zitta Anche tu Che già qua c'è un casino di gente Quella cura c'è ancora O l'ho usata Benissimo L'ho usata A saperlo La tenevo Ecco fatto Beccati questo Ecco qua Ah Ecco fatto Ecco fatto Ecco fatto Sono una ruba buona Uh Stai buono Ecco fatto Ecco fatto Io non lo farei Eh neanch'io lo farei Ok Con calma Voi cattivacci vi nascondete a una fragile signora Mia madre l'aveva detto Che non lo avete già fatto Ecco fatto Con calma Piano piano ci stiamo arrivando Ecco qua Dimmi che c'è una cura Ah Ok grazie Ok meglio di nulla Ora appare un altro Con il lanciagranate Sicuramente E quando mai ti sbagli Facciamo volare Quei ragazzacci Vai via Uff Vai via Dove l'hai lanciato? Voi cattivacci vi nascondete a una fragile signora Aia Che male Ecco qua Ah è morto subito Ottimo Dove lo lanci però Anche tu Strike Dovrebbero decisamente essere più flessibili Ok ci risiamo Seconda zona di controllo Chiusa Prendiamoci la cura Ecco fatto Aia Ok Devo fare più attenzione Quando lanciano la granata Ecco qua Muoli Becca Ok Eri un po' troppo vicino Per i miei gusti Aspetta Ecco fatto Così Si Che si semplifica Una battaglia Sono una rubacuore Ecco Ecco fatto A sto punto tieni Vuoi cattivacci vi nascondete a una fragile signora Oia Che dolore Muori Oh Ci siamo Pensa che stronzo Sono morto Proprio nel pezzo finale Calorie bruciate 2574 E la madonna 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 Grazie a tutti.